Buongiorno a tutti voi dal telegiornale Rai della Toscana, dunque in apertura c'è la cronaca. Un ragazzo di 14 anni è scomparso da Prato martedì scorso, è uscito di casa e non è più rientrato. Sarebbe stato visto l'ultima volta alla stazione di Montale in apparente stato confusionale. Ci riferisce Walter Rizzo. Manca da casa esattamente da 48 ore a Zismuca, 14 anni, studente al terzo anno della scuola media Enrico Fermi di Prato. Attorno a mezzogiorno del 30 aprile, Aziz ha preso un treno dalla stazione del Serraglio a Prato. Il convoglio viaggiava in direzione ovest e il ragazzo è poi sceso alla stazione di Montale. Lì è stato notato da alcuni testimoni che hanno riferito che appariva un po' confuso. E lì è stato ritrovato anche il suo telefonino. Da quel momento più nulla. La prefettura di Prato ha attivato la procedura di ricerca per le persone scomparse. Dopo che intorno alla mezzanotte di martedì il padre di Aziz si è recato dai carabinieri per denunciare la scomparsa del ragazzo. Le ricerche sono scattate immediatamente. Grazie al sistema di tracciamento che la famiglia aveva attivato sul cellulare di Aziz, è stato possibile ritrovare il cellulare che era stato abbandonato sui binari della stazione di Montale. La famiglia ha lanciato un appello. Grazie a tutti.